ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo con un amico e non sollo si dai si io scrivo ok oh ma dai ok si si ok Siamo, siamo, non sta scrivendo, hai fatto, hai fatto, ho attivato Mobizen, cioè, scuse, ho fatto, certo che ho fatto, dai dove, comunque io non ho senso, ehi, hanno fatto la copia a stecca e rosa, ok ragazzi, veniamo un po', arco, torna su arco, che fai qui, mua, qui, ehi, aspetta che, se va bene, ti ho preso peggio di un, di un cecchino, di un, un cecchino, un, moi, stupido robot, che è il fratello di Ryder, perché, prima avevamo fatto una Ryder, che fortuna di meno che sono la tempesta, c'è quel colt, quel colt, quel colt, è morto di infarto, perché me l'ho ammazzato, perché l'ho ammazzato, ehi, ok, boom, ehi, quanto tocco, quattromila, ehi, va bene, abbiamo vinto, vabbè, ciao, rosso, ciao, IoT calma, ehi, va bene, io che è il fratello, o me l'ho ammazzato, così male il flotto va bene, ma io devo scappare la roba, ah, Tommy no mi no, Tommy no mi no, Tommy no mi no, non ha senso non giravano io non ho un compagno che? quattro non ci vedo allora ah ragazzi voglio dire una cosa che per nelle live ho un po' l'handone e vediamo sempre con un po' di gente e vediamo se riesco a fare un po' di live faccio tutto ok ok finalmente ce l'ho al grado 15 aspetta voglio mettere un epico perchè andiamo dai l'unico epico che ho è mi entravo proprio da 5 anni ragazzi adesso vi racconto una cosa adesso avevo sbloccato una cassettina adesso prima avevo giocato insieme a tommy cioè avevo giocato avevo preso una cassa avevo sbloccato una cassa cioè oggetti bonus rimasti il mio numero 1 io dico vabbè schifiamo e ho trovato 8 gemme in una cassa da brawl c'è roba pazzetta c'è 8 gemme in una cassa brawl ma i livelli di fortuna proprio c'è roba c'è 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 la piazza si vabbè dai cosa fai lì? ah l'ha stunnato ok l'ho posizionata male però vabbè ok c'è franco muori franco va bene ok ovviamente va bene va bene va bene no non è che mori qui va bene quando si può l'altro è è è è gigante robot grosso in un ottimo è veramente una una un un guapam ok 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 un ultimo continuiamo del si si ho aggiunto le 2700 cotte da ieri da oggi da prima e quindi sono felice che bello c'è scritto così si fa anche video su fotonet oppure apex oppure manga boh che vedrete sotto nei commenti quale video volete vabbè allora questo video ci vediamo ci vediamo in partita ok eccoci in partita eccoci in partita eccoci in partita e adesso vediamo si ci arriva voglio ci ci arriva ok mh dia oh ma l'ho messato no ucciso è vero bello ci sono rossi no dai ma accadove 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 eh ho levato ho levato ho levato oh no no eh no dai ma quel bull è con 25 di vita ma si può ma dai ma non posso vedere cose così si ma dai ma non ha senso ah fatti uccidere le bull madonna come un 25 di vita oh 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 ehi madonna eh madonna eh madonna già proprio ah eh ho po eh ma vediamo un po' non voglio uscire da questo caso ok che le chiamole ragazzi che le chiamole ragazzi che le chiamole ragazzi che le chiamole ragazzi voglio trovare con gente che sia anche se non è più bello però bene e cosa c'è? la c'è una carta la c'è un blocco non so neanche ci sono buone no dai no vai alca no dai no dai no dai no dai si vai no dai allora, dai vabbè, oh, toma, che va a fare, toma, muoio, 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 ok, è morto, è morto, è buono, sì, teni tutti paura, vado, 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 ma comunque una cosa che non mi piace è che sono a pesca sto facendo questo video fuori a pesca e quindi non ho sentito perchè? che video faccio? mi ha detto che fai video tanto senti? guarda ragazzi o sei dell'altro mondo? vabbè quel bullo è scendato a suicidare abbiamo vinto! che bello per questo video chiedo 3 like? 2? quanti? quanti volete? 2 like? 1? 3? 3? 4? quanti altri? raggiungiamo almeno i 3 like e raggiungiamo almeno i 3 like e almeno i 3 cioè di qualche video io non sono dentro casa non sono dentro casa non sono a pesca però sono al parco tipo cioè così così vabbè che devi? lasciate like? iscrivetevi se non siete iscritti e noi ci diamo un puntamento nel prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ragazzi ciao